ma hai ancora della mucina sì certo e scusa dove l'hai presa un amico che ora non si fanno neanche più i nomi di quelli che ti danno la mucina senti che ci metto allora dipende dove devi andare è a trombare secondo te è meglio situazione di necessità oppure motivo di salute non credo che vada bene nessuna delle due di questi no infatti ci metto assoluta urgenza non ce la faccio a stare qua con te fino al 3 maggio e quella scusa dove l'hai presa sempre dal tuo amico della mucina non ti riguarda comunque devi tossire così non così bufala ciao ciao ciao